Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Conosciamo più da vicino in questo spazio durante queste settimane, come avete già visto, i candidati che ce l'hanno fatta, coloro che sono diventati consiglieri regionali il 10 marzo scorso, volti vecchi e nuovi della politica regionale. C'è un volto nuovo che approda in consiglio regionale, anche se è stata sindaca della sua città per due mandati. Salutiamo e ringraziamo Tiziana Magnacca. Buonasera. Buonasera e buonasera ai telespettatori. La più votata in Fratelli d'Italia, in provincia dei Chieti, oltre 9600 preferenze, un dato davvero straordinario, ancor più rilevante, perché lei è stata lontana per alcuni mesi dalla vita politica, dopo il suo mandato completato al comune di San Salvo, peraltro con una riconferma della sua coalizione di centrodestra con la sindaca De Nicolis. Ma che cosa ha fatto, intanto le chiedo questo, cosa ha fatto Tiziana Magnacca per costruire questo successo elettorale in questi anni? Ha dovuto mantenere sempre il rapporto con il suo elettorato, con i suoi punti di riferimento sul territorio? Sì, intanto a seguito dei miei due mandati da sindaco abbiamo portato di nuovo il centrodestra a rivincere nella nostra città. Io sono stata eletta Presidente del Consiglio Comunale, quindi dal luglio 2022 ad oggi sono tuttora in carica come Presidente del Consiglio Comunale. E quindi diciamo che ho avuto un ruolo chiaramente attivo nella vita pubblica della mia città, ma io credo che questo risultato sia il risultato di tanti anni di impegno e di lavoro per la mia città, ma anche per il territorio, per il quale ho lavorato anche da sindaco di San Salvo, tentando ogni qualvolta mi era stata data la possibilità di tenerlo insieme, e di fare un lavoro che potesse rappresentare tutte le comunità del Vastese, rifugendo dai tentativi di dividerci o dai anacronistici campanilismi. Questo risultato è sicuramente frutto di tanto impegno, di tanto lavoro, animato veramente dal desiderio di poter realizzare l'interesse comune, il bene collettivo, e fatto giorno dopo giorno in un tempo lunghissimo, quasi 12 anni. E credo che sia veramente il mio, credo che sia stato per molti versi un voto di opinione. Onestamente non credo di aver contattato 9.635 persone, ed è proprio l'esempio di un voto trascinato da un'opinione che i cittadini si sono fatti nel tempo sul mio operato e sull'efficacia dell'azione amministrativa e sulla bontà dei risultati. Credo che sia stato soprattutto questo. Un voto che non è arrivato soltanto dal Vastese, ma che si è esteso anche ad altri ambiti territoriali della provincia, che comunque va a rappresentare adesso una responsabilità ulteriore per lei, perché si tratta di farsi carico della circoscrizione e probabilmente, se ci sarà questa riforma elettorale, anche allargare la propria esperienza ad un contesto più regionale. Lei crede in questa idea di Marsilio che i consiglieri regionali poi debbano, non dico sganciarsi dal territorio elettorale di appartenenza, ma comunque rappresentare un po' tutto alla regione e quindi far fare questo salto di qualità? Intanto colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno votato a distanza anche di 80 km dalla mia città, è chiaro che il maggior numero di voti li ho presi proprio a San Salvo, alla quale sono legata veramente da un legame di affetto quasi, non solo politico, reciproco tra i miei cittadini, Vasto mi ha dato un carico di responsabilità, oltre che di fiducia evidente, ma poi siamo stati incoraggiati dal Lancianese, dalla Val di Sangro, sino a Chieti, Bocchianico, quindi io sento la responsabilità sulle mie spalle dell'intera provincia e stando ad oggi è chiaro che in qualche misura dovrò difendere questo carico di fiducia enorme che mi è stato dato. In prospettiva l'idea di un collegio unico regionale serve nella misura in cui gli assessori o consiglieri regionali fanno l'errore di sentirsi consiglieri regionali della propria città, questo è un errore che deriva a mio avviso da un infantilismo politico, perché nel momento in cui si ha il mandato elettorale si deve rappresentare l'intera regione, quindi chi in passato ha tentato di rappresentare soltanto la città come è accaduto o la circoscrizione di riferimento ha sbagliato, non ha intuito nella maniera giusta quali fossero i compiti, gli impegni, i doveri di un consigliere regionale e se per ovviare a questa cattiva interpretazione del mandato elettorale sarà necessario un collegio unico, lo valuteremo, il Presidente spinge moltissimo in questo senso, è chiaro che il risultato sarà quello che vorrà la maggioranza che siede in consiglio regionale. Potrebbe andar bene a patto però che questo non si trasformi a mio avviso in una mancanza ancora una volta dopo la legge nazionale anche in regione di incisività della volontà popolare, cioè va bene il collegio regionale per ovviare a chi interpreta male il mandato da consigliere regionale, ma purché residui in capo alla gente, al popolo, ai cittadini la possibilità di incidere con la propria volontà, quindi deve essere calibrato in maniera tale che i partiti possano selezionare una classe dirigente all'altezza, adeguata, capace e al tempo stesso lasciare ai cittadini la possibilità davvero di esprimersi il più liberamente possibile evitando le liste chiuse, i proporzionali a cui già siamo abituati con la legge nazionale. Sì, proprio seguendola su questo ragionamento, lei si è chiesta perché soltanto tre donne siano state elette, poi ci saranno sicuramente degli ingressi con le supplenze, però perché tre donne anche a fronte della doppia preferenza di genere? Beh, intanto questo risultato ci impone una riflessione, intanto la riflessione sulla utilità delle quote, questo va intanto detto, non sono state sufficienti a esprimere più consiglieri donne, quindi vuol dire che per poter incentivare la presenza femminile nella politica sono necessarie altre policy che consentano alle donne che hanno un carico familiare di poter in qualche maniera dedicarsi più attivamente alla politica, cercando di fare qualcosa che adesso si sta facendo. Io sono stata il primo sindaco donna di una città a doppio turno in Abruzzo, il che è accaduto 12 anni fa, non 50 anni fa, quindi io noto che un cambiamento si sta avendo soprattutto a livello locale, a livello dei comuni, dopo di me nel mio territorio sono state elette diverse sindaco donne, quindi si deve cominciare intanto dal basso, perché questo ci permette di formare una classe dirigente adeguata, a prescindere dal sesso, perché quelli dell'ultimo secondo non so quanto poi siano in grado di essere consapevoli fino in fondo dei bisogni, delle esigenze, delle aspettative della comunità abruzzese, intanto questo e poi agevolare il più possibile la crescita e l'avanzamento delle donne, già a livello locale, perché poi questo aiuta molto nel proseguo, con delle policy che evitano di mettere una toppa sulla coscienza per quelli che vogliono dimostrarsi progressisti e facciano attività concrete per aiutare l'ingresso delle donne in politica. Ripeto, intanto nelle amministrative il coraggio di iniziare a scegliere consiglieri comunali donne e sindaci donne, intanto cominciamo da lì, perché questo ci permette poi, ripeto, di avere una classe dirigente adeguata a prescindere dal sesso e poi chiaramente tutto quello che in Italia deve essere ancora portato avanti e messo a punto, che sono le politiche di genere che servono per tutte le donne che lavorano, a maggior ragione per chi intende impegnarsi nella vita pubblica. Sono passate esattamente due settimane dal voto, quindi adesso c'è anche un po' più di freddezza nel leggere i numeri, è finito un po' il clima nella contrapposizione elettorale che ovviamente si era fatto caldo negli ultimi giorni, ma perché ha vinto Marco Marsiglio e perché questo campo largo in Abruzzo sostanzialmente ha rappresentato un fallimento al di là della qualità del candidato che era stato scelto a rappresentarlo? Marco Marsiglio ha vinto intanto perché è stato un bravo presidente, un presidente che ha portato avanti politiche per l'Abruzzo incisive, penso alle infrastrutture, penso al turismo e penso soprattutto a quello che ha fatto attraversando due anni difficilissimi, io ero sindaco di San Salvo durante la pandemia, quindi ha gestito benissimo un periodo difficilissimo con la protezione civile, con tutti gli uffici regionali, derivandone peraltro una situazione, siamo una delle poche regioni dove non ci sono stati scandali, quindi è stata un'azione incisiva, al tempo stesso trasparente e che ha portato i giusti risultati. È una persona concreta, una persona schietta, al di là di ogni propaganda elettorale, quando si governa si mettono da parte la campagna elettorale, Marco è stato sempre un presidente per noi sindaci, per gli amministratori locali molto presente, quindi credo che questo l'abbia premiato, aiutato come è stato evidentemente anche dalle percentuali positive dei partiti della coalizione di centrodestra, chiaramente va detto, la vicinanza con un governo centrale che ci è amico, ha aiutato anche esso e ci fa anche sperare bene per il futuro. Noi siamo, noi di centrodestra siamo così, stiamo naturalmente insieme, non abbiamo bisogno di inventare formule e questo le persone lo riconoscono, ragione ulteriore perché è stato dato un voto ad una coalizione compatta che nella sostanza ha gli stessi valori, gli stessi principi ed è insieme da oltre 30 anni, al di là degli slogan. Purtroppo le finzioni non piacciono ai cittadini, non piacciono quando si presentano a livello locale, ragione per cui ad esempio quando si va nei comuni a doppio turno, si fanno gli apparentamenti successivi, abbiamo statisticamente la prova che non premiano mai perché queste finzioni dell'ultimo momento non piacciono ai cittadini, che riconoscono questa sorta di finzione elettorale anche nel campo largo, in un campo largo dove c'è di tutto dentro, non ci si può mettere insieme solo per lucrare e ottimizzare il voto del momento, i cittadini hanno imparato a riconoscerlo, ecco la ragione per la quale sono stati sconfitti al di là della qualità del candidato e anche dei candidati consiglieri e poi sono stati veramente disastrosi perché nell'ultima settimana hanno preso tutti, all'interno di questo campo largo, tutti, le distanze da tutti, con i distinguo, con le differenze, insomma le persone vanno rassicurate sulla capacità di governare, di stare insieme e non di perdersi dietro a questi distinguo, a queste differenze. Abbiamo circa tre minuti, io avevo ancora due domande da farle e le faccio stesse anche perché alla prima non credo che mi risponderà, qual è il suo assessorato nell'aggiunto, quali sono le sue ambizioni, la seconda che è un po' collegata alla prima e quella relativa alla prima idea, al primo progetto di legge che Tiziana Magnacca da consigliere regionale, se lo sarà e comunque insomma la ispirerà da altre postazioni, tiene in maniera particolare che possa caratterizzare anche una sua iniziativa legislativa nel nuovo consiglio regionale. Beh, intanto vediamo se sederemo in giunta, il Presidente ha rassicurato tutti dicendo che il criterio che sarà prescelto sarà quello dei numeri, per cui da questo criterio mi sento garantita, penso anche che sia giusto perché la volontà dei cittadini va rispettata, credo che la mia esperienza decennale mi ha consentito di maturare competenze, sensibilità che pure saranno opportune, ma è chiaro che la scelta aspetta a lui così come nella delega. Come ha ben detto lei all'inizio, sono stata eletta in una circoscrizione che ha una forte vocazione produttiva, una vocazione produttiva multidimensionale, per cui ci siamo imbattuti nei problemi dell'agricoltura, la viviamo da vicino per la chiara vocazione verso questo settore della nostra provincia. Non parlo nemmeno delle attività produttive, io ho fatto il sindaco in una città dove ci sono tre multinazionali e vivo, ho vissuto molto da vicino anche la Val di Sangro, quindi sarebbero i settori più vicini alla mia esperienza, l'esperienza con maturata. Da consigliere regionale ci saranno tante cose di cui ho parlato anche durante la campagna elettorale. Però quello che ho capito poi le porterà avanti chi sarà sua supplenta. Vedremo, un'attenzione particolare alle aree interne, questo ci tengo perché hanno bisogno di una legge sistematica che garantisca la possibilità della piena attuazione dell'articolo 3 della Costituzione perché sono cittadini come tutti gli altri, quindi la sanità, la viabilità, le imprese che ancora resistono nelle nostre aree interne, pur essendo stata sindaco di una città costiera. Ma dobbiamo stare insieme, solo se stiamo insieme siamo forti. Bene, grazie, buon lavoro Tiziana Magnacca, grazie per aver raccolto il nostro invito e appuntamento anche con i nostri telespettatori a domani alla stessa ora. Arrivederci. Grazie.